E' stato ripristinato ieri in tarda serata il servizio elettrico nel comune di Bugnara, interrotto parzialmente a causa di una frana che ha provocato il crollo del muro di contenimento nei piazzali antistante del municipio, danneggiando una cabina dell'Enel. Per alimentare le utenze rimaste senza corrente si è provveduto in parte con un gruppo elettrogeno, in parte attraverso altre utenze non interessate da disservizio. Il fatto è accaduto intorno alle 16 di ieri. A rischio il chiosco è legno che ospita il bar, sotto il cui pavimento è franata una buona fetta di terreno. La frana si è portata con sé anche a una cabina dell'Enel, lasciando mezzo paese senza energia elettrica. Ancora da verificare le cause alla base del crollo. I vigili del fuoco non escludono alcune ipotesi e rimandano la perizia tecnica che sarà effettuata nei prossimi giorni per stabilire le cause del crollo. La zona è quella accanto ai cantieri aperti per la costruzione della nuova scuola Vittorio Clevente, realizzata con fondi post-terremoto e finita nell'inchiesta avviata dalla procura di Pescara su presunte tangenti che ha portato all'arresto di sette persone. Sul crollo del muro del contenimento sicuramente avranno inciso anche ripetuti eventi sismici delle ultime ore, anche se le cause restano da accertare.